Se un discorso è ben fatto, proseguì la signorina Tilni, lo leggo con piacere, chiunque lo pronunci e probabilmente con piacere molto maggiore se è frutto dell'immaginazione di un Ohium o di un Robertson, piuttosto che delle vere parole di Caractacus, Agricola o Alfredo il Grande. — E così vi piace la storia? E piace anche a signor Allen e a mio padre, e a due dei miei fratelli non dispiace affatto, disse Catherine. — È straordinario trovare tanti esempi entro la mia ristretta cerchia di amici. Se continuerò di questo passo non compiangerò mai più gli scrittori di storia. Se alla gente piace leggere i loro libri allora va benissimo, ma prendersi tanto fastidio per riempire quegli enormi volumi che, come pensavo una volta, nessuno avrebbe nemmeno aperto volentieri affaticarsi solo per essere il tormento di ragazzini e ragazzine. Ah, questa mi è sempre sembrata una triste sorte, e benché sappia che quel lavoro è più che giusto e necessario, mi sono sempre meravigliata del coraggio di chi riusciva a dedicarvisi per mestiere. — Oh, che ragazzini e ragazzine debbano essere tormentati, disse Henry, è una cosa che nessuno che conosca la natura umana come si esprime in una società civile può negare. Ma, in difesa dei nostri storici più eminenti, devo osservare che avrebbero ragione di offendersi se si supponesse che non hanno un fine più elevato. Il loro metodo e il loro stile sono perfettamente in grado di tormentare lettori ben più maturi per anni e per intelletto. Uso il verbo tormentare, come ho visto che fate voi, invece di istruire, perché immagino che ormai si intendano normalmente come sinonimi. — Oh, pensate che sia una sciocca chiamare l'istruzione un tormento, eh? Ma se foste abituato quanto me a sentire dei poveri bambini che prima imparano a leggere l'alfabeto e poi a compitare le parole, se aveste visto quanto possono sembrare sciocchi costretti a passare così un'intera mattina, e quanto è stanca la mia povera mamma quando la lezione finisce, come vedo io quasi ogni giorno a casa mia, allora riconoscereste che tormentare e istruire a volte possono essere usati come sinonimi. — È molto probabile, ma gli storici non sono responsabili delle difficoltà che incontra chi deve imparare a leggere, e anche voi che non sembrate particolarmente favorevole a un'applicazione molto rigida, molto intensa, potreste forse riconoscere alla fine che vale la pena di essere tormentati per due o tre anni della nostra vita, per essere poi capaci di leggere per tutto il resto di essa. Pensate che se non si insegnasse a leggere, Ann Radcliffe avrebbe scritto in vano, forse non avrebbe scritto affatto. Catherine si dichiarò d'accordo, e un suo calorosissimo panegirico di quella signora chiuse l'argomento. Presto i Tilni si trovarono impegnati a discuterne un altro, sul quale lei non aveva niente da dire. Guardavano infatti la campagna con l'occhio di chi è abituato a disegnare, e cercavano di decidere se la si potesse racchiudere in un quadro con tutto l'ardore di chi se ne intende. A questo punto Catherine si sentì proprio persa, non sapeva nulla di disegno, non era portata per l'arte, e li ascoltava con un'attenzione che le serviva ben poco, poiché gli altri usavano frasi che in genere non avevano per lei nessun significato. Quel poco che riusciva a capire comunque sembrava contraddire le poche nozioni che aveva preso in precedenza sull'argomento. Sembrava che un bel panorama non si dovesse più ammirare dalla cima di un'alta collina, e che un cielo azzurro e limpido non fosse più una prova che era una bella giornata. Si vergognava sinceramente della sua ignoranza, ed era una vergogna fuori luogo. Quando si vuole riuscire simpatici, bisognerebbe sempre essere ignoranti. Presentarsi come persone colte significa presentarsi come persone incapaci di soddisfare la vanità degli altri, cosa che una persona di buon senso eviterà sempre accuratamente. Specialmente una donna, se ha la sfortuna di sapere qualcosa, dovrebbe sempre nasconderlo meglio che può. I vantaggi della totale stupidità per una bella ragazza sono già stati esposti dall'ottima penna di un collega, e dato il modo esauriente con cui ha trattato l'argomento, io aggiungerò soltanto, per rendere giustizia agli uomini, che anche se la maggior parte di loro, i più superficiali, pensa che l'imbecillità di una donna serva a mettere in grande risalto il loro fascino personale, ce ne sono alcuni che hanno troppo buon senso e sono troppo colti per desiderare in lei più che l'ignoranza. Ma Catherine era ignara della sua stessa fortuna, non sapeva che una ragazza graziosa, affettuosa e molto ignorante non può mancare di attrarre un intelligente giovanotto, a meno che le circostanze non le siano particolarmente contrarie. Nel caso attuale, lei confessò lamentando la sua mancanza di cultura, dichiarò che avrebbe dato qualsiasi cosa pur di saper disegnare, immediatamente seguì una conferenza sul pittoresco, e le spiegazioni di lui furono così chiare, che presto lei cominciò a scorgere la bellezza di tutto quello che lui ammirava, e la sua attenzione fu così intensa che egli poteva essere perfettamente soddisfatto di lei, e affermare che possedeva un gusto estetico innato. Parlò di sfondi, primi piani e secondi piani, vedute laterali, prospettive, luci e ombre, e Catherine era un'allieva così promettente che quando raggiunsero la cima di Beech and Cliff, dichiarò spontaneamente che l'intera città di Bath si sarebbe dovuta senz'altro escludere da un paesaggio. Felice dei suoi progressi, e timoroso di stancarla propinandole troppe erudizioni tutta in una volta, Harry accettò di buon grado che l'argomento venisse abbandonato, e passando facilmente da un masso di roccia e dalla quercia secca che vi aveva sistemato sopra, alle querce in generale, alle foreste, a quello che racchiudevano, alle terre incolte, alle proprietà terriere della corona e al governo, si ritrovò rapidamente a parlare di politica, e dalla politica al silenzio il passo fu breve. Alla pausa generale che seguì la breve disquisizione di Harry sullo stato del paese, mise fine Catherine che in tono piuttosto solenne pronunciò queste parole, ho sentito che a Londra si avrà presto qualcosa di sensazionale. La signorina Tilni alla quale si rivolgeva in particolare trassalì e subito replicò «Davvero? E di che tipo?» «Oh, questo non lo so, ne so chi ne sarà l'autore, ho solo sentito dire che sarà più orribile di qualsiasi cosa che abbiamo conosciuto fino ad oggi». «Buon Dio, e dove avete sentito dire una cosa del genere?» «Una mia cara amica lo ha saputo da una lettera speditale da Londra che ha ricevuto ieri, sarà davvero incredibilmente orribile, immagino che vi saranno assassini e cose del genere». «È straordinaria la calma con cui ne parlate, ma spero che le notizie ricevute dalla vostra amica siano esagerate e se si conosce in anticipo un piano del genere, sicuramente il governo prenderà le misure appropriate per impedire che venga portato a compimento». «Il governo?» disse Harry cercando di non sorridere, «Non desidera e nemmeno osa interferire in faccende di questo tipo. Devono esserci gli assassini, e al governo non importa quanti». Le signore lo fissarono sorprese. Egli rise e aggiunse «E allora, devo fare in modo che comprendiate o lasciare che indoviniate la spiegazione?» «No, sarò generoso. Vi proverò che sono un uomo non solo nobile di animo, ma con le idee chiare. Mi irritano gli appartenenti al mio sesso che disdegnano di abbassarsi qualche volta fino a poter essere compresi dal vostro. Anche se forse è vero che le donne non possono annoverare tra le loro doti l'essere equilibrate o acute, né energiche o perspicaci, e forse non sono osservatrici. Mancano di sagacia, di capacità di giudizio, di fuoco, genio e spirito. «Signorina Morland, non fate caso a ciò che dice mio fratello, ma abbiate la bontà di soddisfare la mia curiosità circa questa terribile rivolta». «Rivolta? Quale rivolta?» «Mia cara Elianor, la rivolta esiste solo nella tua mente?» C'è stata un'incredibile confusione. Quello di cui la signorina Morland parlava non era niente di più terribile di una nuova pubblicazione che uscirà fra breve, formato dodicesimo, 266 pagine ognuna, con un frontespizio al primo volume che rappresenta due pietre, tombali e una lanterna. Capisci ora? «E voi, signorina Morland, la sciocca sorella ha frainteso tutte le vostre frasi più chiare. Voi avete detto che a Londra ci si aspettavano cose orribili, e invece di immaginare immediatamente, come avrebbe fatto qualsiasi persona di buonsenso, che le vostre parole potevano riferirsi solo a una biblioteca circolante, lei si è immediatamente raffigurata una rivolta di 3.000 uomini raccolti a St. George's Fields. La banca d'Inghilterra attaccata, la torre minacciata, il sangue che scorreva per le strade di Londra, un distaccamento del dodicesimo dragoni, la speranza della nazione richiamato da Northampton per domare gli insorti e il prode capitano Frederick Tilney, nel momento della carica alla testa del suo squadrone, sbalzato da cavallo o da un pezzo di mattone lanciato da una finestra. «Perdonate la sua stupidità, i timori di una sorella si sono aggiunti alle debolezze della donna, ma generalmente non è affatto così sciocca». Catherine si fece seria. «E ora che hai fatto in modo che noi due ci capissimo, Harry?» disse la signorina Tilney. «Fatti capire tu stesso dalla signorina Morland, se non vuoi che lei ti creda insopportabilmente scortese verso tua sorella. E' un vero brutto per l'opinione che hai delle donne, in genere. La signorina Morland non è abituata alle tue stranezze». «Oh, sarei felicissimo di fargliele conoscere meglio. Non c'è dubbio, ma questa non è una spiegazione. E che cosa devo fare? Sai bene che cosa dovresti fare. Spiegarle bene quali sono le tue idee. Dille che hai un'ottima opinione dell'intelligenza delle donne». «Signorina Morland ha un'ottima opinione dell'intelligenza di tutte le donne del mondo, specialmente di quelle, chiunque siano, di cui mi trovo in compagnia». «Non basta. Sì, più serio». «Signorina Morland, nessuno più di me potrebbe avere un'ottima opinione dell'intelligenza delle donne. Secondo me, la natura ne ha data loro tanta che pensano non sia mai necessario usarne più della metà». «Ah, non otterremo niente di più serio da lui in questo momento. Signorina Morland, non ha voglia di fare la persona seria, ma vi assicuro che credere che possa dire qualcosa di ingiusto rispetto a una donna qualsiasi o di scortese verso di me significherebbe fraintenderlo completamente». Non era difficile per Catherine credere che Harry Tilney non avesse mai torto. I suoi modi potevano a volte sorprendere, ma ciò che egli intendeva doveva sempre essere giusto. E quello che non capiva era quasi altrettanto pronta ad ammirarlo come quello che capiva. La passeggiata fu nel complesso deliziosa e, benché fosse troppo breve, ebbe anche una conclusione altrettanto deliziosa. Gli amici l'accompagnarono a casa e, prima di separarsi, la signorina Tilney, rivolgendosi sia alla signora Allen che a Catherine, sollecitò il piacere della compagnia dell'amica a cena due giorni dopo. Non ci furono difficoltà da parte della signora Allen e l'unica difficoltà da parte di Catherine fu quella di nascondere quanto fosse felice. Il mattino era volato in modo così piacevole da bandire dalla sua mente ogni sentimento di amicizia e di affetto. Il pensiero di Isabello di James, infatti, non l'aveva nemmeno sfiorata durante la passeggiata. Quando i Tilney se ne furono andati, pensò di nuovo a loro con affetto, ma per un poco il suo affetto non servì granché. La signora Allen non aveva niente da dirle che potesse alleviare la sua ansia, non aveva notizie di nessuno di loro. Verso la fine della mattimata, comunque, Catherine ricordò per caso che non poteva fare a meno di comprare, senza un attimo di indugio, un metro di nastro, e quindi andò in città. In Bond Street incontrò la seconda signorina Thorpe che faceva un giro agli Edgar's Buildings, insieme a due delle ragazze più dolci del mondo che erano state sue care amiche fin dall'inizio della mattinata. Da lei seppe che la partenza per Clifton c'era stata. «Sono partiti alle otto di stamattina», disse la signorina Anne, e certo non invidio la loro gita. «Credo che voi e io siamo molto fortunati ad averla scampata. Deve essere la cosa più noiosa del mondo perché non c'è un'anima a Clifton in questo periodo dell'anno». «Belle è andata con vostro fratello e John ha portato Maria». Catherine espresse il piacere che sinceramente provava nell'apprendere quest'ultima parte del programma. «Oh!» le fece ecco la signorina Anne. «E' andata Maria?» «Moriva dalla voglia di andare. Pensava che sarebbe stato bellissimo. Non posso dire di condividere i suoi gusti. Per parte mia ero ben decisa fin dall'inizio a non andare, per quanto insistessero». Catherine, un po' incredula di fronte a questa affermazione, non si trattenne dal replicare «Vorrei che aveste potuto andare anche voi. È un peccato che non siate andata». «Grazie, ma mi è del tutto indifferente. In realtà non sarei andata comunque. Stavo proprio parlandone con Emily e Sofia quando ci avete raggiunte». Catherine non era ancora convinta, ma contenta che Anne avesse l'amicizia di un Emily e di una Sofia per consolarla, la salutò più sollevata e ritornò a casa, felice che il suo rifiuto di partecipare alla gita non avesse impedito che questa avesse luogo e con il sincero desiderio che fosse tanto piacevole da impedire a James e Isabella di tornare ancora in collera con lei. Capitolo 15 Il giorno dopo arrivò un biglietto di Isabella che parlava in ogni riga di pace e di affetto e sollecitava l'immediata presenza dell'amica per una faccenda della massima importanza. Catherine si affrettò quindi felice verso gli Edgars Buildings con l'animo pieno di fiducia e di curiosità. Le due signorine Thorpe più giovani si trovavano nel salottino e quando Anne si allontanò per chiamare la sorella Catherine colse l'occasione per chiedere all'altra qualche particolare della gita del giorno prima. Maria non desiderava altro che di poterne parlare con qualcuno e Catherine seppe immediatamente che era stata la gita più fantastica del mondo che nessuno avrebbe potuto immaginare quanto era stata piacevole e che era stata meravigliosa più di quanto si potesse concepire. Queste furono le informazioni fornite nei primi cinque minuti. Nei cinque minuti seguenti vennero svelati maggiori dettagli che erano andati direttamente allo York Hotel avevano mangiato un po' di minestra ordinato la cena dato che volevano mangiare presto avevano fatto una passeggiata fino alla Pump Room assaggiato l'acqua e speso qualche scellino in souvenir. Quindi erano passati da un pasticcere per mangiare il gelato ed erano tornati di corsa all'hotel avevano ingoiato in fretta la cena per non dover viaggiare di notte e quindi il ritorno era stato delizioso anche se veramente non c'era la luna aveva piovuto un po' e il cavallo del signor Morland era così stanco che quasi non ce la faceva più a camminare. Catherine ascoltò con sincera soddisfazione a quanto sembrava a Blaise Castle non si era nemmeno pensato e per quanto riguardava tutto il resto non c'era niente da rimpiangere nemmeno per un attimo. Il resoconto di Maria si concluse con una manifestazione d'affetto per la sorella Anne che purtroppo era stata esclusa dalla gita ed era per questo così la dipinse Maria incredibilmente incollera. Non mi perdonerà mai ne sono sicura ma voi capite cosa potevo farci. John ha voluto che andassi io ha dichiarato che non avrebbe mai portato lei perché ha le caviglie troppo grosse. Credo che non le tornerà il buon umore per tutto il mese ma io sono decisa a non prendermela non basta certo una sciocchezza a farmi perdere la calma. A questo punto Isabella entrò nella stanza con passo così impaziente e un'aria insieme di felicità e di importanza tale da attirare immediatamente l'attenzione dell'amica. Maria fu mandata via senza troppi complimenti e Isabella abbracciando Catherine è proprio così il tuo intuito non ti ha ingannata oh oh quel tuo sguardo malizioso vede tutto. Catherine replicò solo con uno sguardo di ignara meraviglia ma sì mia amatissima dolcissima amica continua l'altra ricomponiti io sono terribilmente agitata come vedi sediamoci e parliamo con calma ebbene hai dunque indovinato tutto nel momento in cui hai ricevuto il mio biglietto oh che creatura astuta oh mia cara Catherine solo tu che conosci il mio cuore puoi capire la mia attuale felicità tuo fratello è il più affascinante degli uomini vorrei solo essere degna di lui ma cosa diranno i tuoi egregi genitori oh cielo quando penso a loro mi sento così sconvolta Catherine incominciava lentamente a capire improvvisamente la verità le balenò alla mente e arrossendo come era naturale davanti a un'emozione così inaspettata esclamò buon dio mia cara Isabella ma cosa vuoi dire è possibile è davvero possibile che tu sia innamorata di James seppe comunque presto che questa audace ipotesi non comprendeva che la metà del fatto il vivo affetto di Isabella che lei era stata accusata di aver continuamente notato in ogni sguardo e in ogni atto dell'amica durante la gita del giorno precedente aveva ricevuto la confessione di essere ricambiato da un uguale amore il suo cuore e la sua promessa la legavano ora in ugual modo a James Catherine non aveva mai ascoltato niente che fosse per lei così pieno di interesse meraviglia e gioia suo fratello e la sua amica fidanzati questa situazione per lei del tutto nuova assumeva perciò un'importanza che le sembrava indicibilmente grande e lei la vedeva come uno di quei grandi eventi che non si ripetono due volte nel corso di una vita la piena dei suoi sentimenti era tale che le riusciva impossibile esprimerli ma la loro natura bastava soddisfare l'amica dato che prima di tutto Catherine li manifestò dando voce alla felicità di avere Isabella per sorella e le due belle signorine si unirono in abbracci e lacrime di gioia per quanto comunque Catherine fosse sinceramente deliziata al pensiero di quell'unione bisogna dire che Isabella la sorpassava di molto per ogni affettuosa anticipazione del futuro mia cara Catherine tu mi sarai molto più cara di Anna o di Maria sento che sarò molto più affezionata alla cara famiglia Morland che alla mia questa vetta dell'amicizia era al di là delle possibilità di Catherine tu somigli tanto al tuo caro fratello continuò Isabella che mi sono affezionata a te dal primo momento che ti ho vista ma per me è sempre così è il primo momento che decide tutto il primo giorno che Morland venne da noi il Natale scorso dal primo momento che lo vidi già il mio cuore era irrimediabilmente perduto ricordo che indossavo un abito giallo e avevo appuntato le trecce sulla testa e quando entrai nel soggiorno e John lo presentò io pensai che non avevo mai visto nessun uomo così bello in vita mia a questo punto Catherine riconobbe segretamente il potere dell'amore infatti per quanto fosse estremamente affezionata al fratello e parziale verso tutte le sue doti non aveva mai pensato che fosse bello ricordo anche che quella sera la signora Andrews era da noi per il tè e indossava un abito di taftà color pulce ed era così straordinariamente graziosa che pensai che tuo fratello si sarebbe certamente innamorato di lei non potei chiudere occhio tutta la notte pensandoci oh Catherine quante notti in sogno ho passato per tuo fratello non vorrei che tu soffrissi la metà di quello che ho sofferto io sono certa di essere dimagrita in modo orribile ma non ti annoierò descrivendoti le mie pene tu le hai già viste sento di essermi tradita continuamente parlare così sconsideratamente del mio debole per gli uomini di chiesa ma sono sempre stata certa che con te il mio segreto era al sicuro Catherine pensò che niente avrebbe potuto essere più al sicuro ma vergognandosi di non aver capito nulla fino ad allora cosa che l'altra non sembrava nemmeno immaginare non osò contraddirla ancora e non negò di essere stata così astuta e intuitiva né di aver dimostrato l'affettuosa comprensione che Isabella le attribuiva seppe che il fratello si stava preparando a partire in tutta fretta per Fullerton per rendere nota la sua situazione e richiedere il consenso della famiglia e questa era davvero una fonte di agitazione per l'animo di Isabella Catherine cercò di convincerla che come lei stessa credeva fermamente il padre e la madre non si sarebbero mai opposti ai desideri del figlio è impossibile disse trovare genitori più cari o più desiderosi di fare felici i loro figlioli non ho nessun dubbio che acconsentiranno immediatamente Morlan dice esattamente la stessa cosa replicò Isabella eppure io non oso aspettarmelo la mia dote sarà così esigua non acconsentiranno mai tuo fratello che potrebbe permettersi di sposare chiunque e qui Catherine poté di nuovo scorgere la forza dell'amore Isabella sei davvero troppo modesta la differenza di beni non ha nessuna importanza oh mia dolce Catherine forse per il tuo cuore generoso non sarà importante ma non dobbiamo aspettarci che gli altri siano così disinteressati per quanto mi riguarda so bene che vorrei solo che le nostre situazioni fossero opposte se potessi disporre di milioni se fossi la padrona del mondo tuo fratello sarebbe sempre l'unico che sceglierei questi nobili sentimenti tanto nuovi quanto pieni di buonsenso risvegliarono in Catherine il piacevolissimo ricordo di tutte le eroine di sua conoscenza e pensò che l'amica non era mai stata così bella come quando aveva espresso quell'elevato pensiero sono certa che acconsentiranno continuò a ripetere sono certa che saranno felicissimi che abbia scelto te per quanto mi riguarda disse Isabella i miei desideri sono così modesti che l'entrata più esigua del mondo mi basterebbe quando ci si vuole veramente bene la stessa povertà diventa ricchezza detesto il lusso eccessivo non mi stabilirei a Londra per tutto l'oro del mondo una casetta in un piccolo villaggio mi manderebbe in estasi ci sono delle villette così carine vicino Richmond Richmond esclamò Catherine dovete stabilirvi vicino a Fullerton dovete stare vicino a noi già sono sicura che altrimenti mi sentirei infelice solo se potrò stare vicino a te sarò soddisfatta ma questi sono castelli in aria non voglio neppure pensare a queste cose finché non avremo la risposta di tuo padre Morland dice che mandandola stasera a Saltbury potremmo averla domani domani so che non avrò mai il coraggio di aprire la lettera so che sarà la mia morte dopo aver espresso questa convinzione Isabella parve sognare a occhi aperti per un po' e quando parlò di nuovo fu per decidere la stoffa del suo abito da sposa mise fine alla loro conversazione lo stesso ansioso innamorato che in un soffio sussurrò il suo addio a Isabella prima di partire per il wheelchair Catherine avrebbe voluto congratularsi con lui ma non sapeva cosa dire e riuscì a rendere eloquente solo il suo sguardo dallo splendore dei suoi occhi più che mai espressivi sgorgarono comunque tutte e otto le parti del discorso e James poteva ricomporlo facilmente impaziente per la realizzazione di tutto quello che sperava di ottenere da casa egli non prolungò gli addi che sarebbero stati ancora più brevi se più di una volta non lo avessero trattenuto le pressanti sollecitazioni della sua bella che lo pregava di andare due volte quasi arrivato sulla soglia e gli dovete tornare indietro per rispondere alle frasi ansiose con cui lei lo esortava ad andare Morland devo proprio cacciarvi via pensate quanto dovete galoppare non sopporto che vi attardiate tanto per amor del cielo non perdete più tempo su andate vi dico di andare le due amiche i cui cuori erano più uniti che mai furono inseparabili per tutto il giorno e facendo progetti di felicità futura per quanto sarebbero state davvero sorelle le ore volarono alla signora Thorpe e al figlio che sapevano tutto e che sembrava aspettassero solo il consenso del signor Morland per considerare il fidanzamento di Isabella la circostanza più fortunata che si potesse immaginare per la loro famiglia fu permesso di partecipare ai loro piani segreti e aggiunsero quindi la loro parte di sguardi significativi ed espressioni misteriose a quelle di Catherine e Isabella fino a riempire la misura della curiosità suscitata nelle sorelle minori che non avevano il privilegio di essere state informate dell'avvenimento secondo il semplice modo di pensare di Catherine questa strana riservatezza non pareva né gentile né coerentemente sostenuta e non avrebbe potuto trattenersi dall'esprimere il suo parere se la finzione non fosse stata appunto così inconsistente ma Anne e Maria la tranquillizzarono presto con la sagacia dei loro io lo so e la serata passò in una specie di schermaglia di ingegno un'esibizione di acume familiare da un lato il mistero di un finto segreto dall'altro quello di una scoperta indefinita entrambi ugualmente penetranti